allora benvenuti e vediamo un po' suite home 3d come ho detto suite home 3d è gratis credo anche open source la versione che vi ho fatto scaricare è completamente gratuita a tutti gli effetti ce n'è un'altra dalla store di microsoft che costa qualcosina ma vi danno un sacco di cosine che potete mettere nelle stanzine ma noi accontentiamoci con la versione free normale allora qui la cosa importante è questa parte qua dove andiamo a costruire le nostre case allora noi dobbiamo prima di tutto definire io suggerirei i muri i muri si ottengono con questo crea muri vedete che qua c'è anche un shortcut che però è un control shift eccetera quindi credo che sia più facile accederci da qua vi dà un po' di istruzioni nel senso che vi chiede come fare dice cliccare un muro poi fare doppio clic quando si finisce nei muri oppure esc per finire ma in realtà adesso ve lo faccio vedere un secondo quindi noi cosa facciamo avendo i muri attaccati partiamo per esempio da dall'origine questa e cominciamo a tracciare un muro semplicemente tenendo cliccato il mouse e andiamo e facciamo una stanza enorme di e che in questo caso la misura è in centimetri sarebbero 10 metri suppongo e sta facendo vedere lo spessore del muro ora voi fate un click e poi potete cambiare la direzione del muro vedete che sotto non so se vedete si vede anche la stanza come viene generata quindi noi possiamo andare lunghezza adesso siamo sei metri facciamo otto metri circa qua ok e poi facciamo qua e facciamo una stanza 10 per 8 qui facciamo doppio clic o anche escape e mi ha fatto la stanza ora per quanto riguarda il pavimento dovete farlo e per fare il pavimento dovete fare realtà crea stanze se c'è come se c'è un giro di muri mentre fate in teoria lui dice che basta fare doppio clic e lui crea il pavimento quindi doppio clic lui ha creato il pavimento e avete fatto una stanza adesso con pochi clic che c'è soltanto queste cose se volete fare ancora di muri in mezzo andate qua e fate anche dei muri intermeti che è molto semplice andate qua per dire clic e poi se volete fare una stanzina ad esempio separa di separazione fra degli ambienti fate così escape quando avete finito in più potete fare anche dei muri curvi nel senso che se qui volete fare un muro curvo basta che facciate clic e poi quando fate il clic finale premete control e poi muovete magari pian pianino ecco è riuscito a fare praticamente un muro curvo escape e avete il vostro muro curvo che avete praticamente evidenziato lì quindi questo è per fare i muri e i pavimenti se volete fare delle aperture delle finestre avete porte e finestre qua e quindi potete fare le vostre porte e discorrendo ma un piccolo trucco che vi insegno è quello di andare su preferenze e di mettere la lista ricercabile facendo lista ricercabile quello che succede è che ci sono i disegni delle cose che volete mettere e potete cercarlo ad esempio in porte finestre vedete quali sono quindi qui c'è porta garage una porta rotondata ad esempio a me le porta rotondate o porta aperte comunque noi diciamo che normalmente se facciamo un tipo museo le porte chiuse non sono molto belle quindi prendiamo una cornice solo la cornice questa e la mettiamo vedete che ci permette di mettere la cornice in un punto e quindi vedete che abbiamo praticato un apertura lì se vogliamo mettere una finestra prendiamo la finestra per esempio questa che è una finestrina così che si apre verso l'esterno e vedete che abbiamo la finestra qua qui possiamo navigare qua quindi vedete che premendo il tasto destro possiamo navigare e possiamo vedere la nostra struttura del nostro del nostro piccolo museo come vedete con pochissimi tasti abbiamo fatto già un qualche cosa di interessantissimo ora nel fine del picco di questo video nel prossimo video vediamo come aggiungere anche qualche elemento e modificare perché ci sono alcuni piccoli trucchi che non sono ovvi scontati e anche eventualmente poi faremo un altro video ancora per far vedere una struttura a più piani quindi per il momento è tutto